attenzione a tutte le unità abbiamo preso l'obiettivo abbiamo preso l'obiettivo passo a Sì! No, no! l'obiettivo è stato neutralizzato attenzione attenzione abbiamo preso l'obiettivo preço assolutamente valen跑 bocci spazio air Deshalb si 6 Ungert No, 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 no! 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 No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Obiettivo al sicuro, basso. 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 Ehi, tieni le punizioni. Qui dietro! Sta a percottire questa... Ascensione, l'obiettivo è stata presa, non si faccia. Non farò fuori! Granata, la ricaro! Ehi, tieni le punizioni. L'obiettivo è stato preso. È un problema. È un problema. È un problema. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti